Spostamenti tra regioni a partire da oggi, 3 giugno e nuova ordinanza regionale nell'ambito della fase 2 post lockdown da Covid-19. Il range di validità dell'atto regionale è fino al 15 giugno. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli a Fragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio Pestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali o all'aeroporto, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 gradi, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o in altri luoghi. Ai singoli comuni di intesa con la protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata l'organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, l'eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti per quanto di rispettiva competenza.